Un sì che farà sicuramente storia, ma che divide la politica locale, quello arrivato ieri in Consiglio Comunale a Pescara. Infatti, approvando la delibera di variante urbanistica, sarà possibile in tempi brevi procedere alla demolizione del ferro di cavallo, il complesso di viatavo noto per i violenti fatti di cronaca legati al traffico di droga, aggressioni e sparatorie. 120 gli alloggi da abbattere, a cui seguirà la ricostruzione di 56 appartamenti. Il voto in aula, 18 favorevoli e 7 contrari, ha riguardato la sola variante urbanistica, senza cioè entrare nel merito del progetto. Un passaggio però fondamentale per l'avvio dei lavori. I due nuovi fabbricati nel progetto disegnato dall'architetto Alfredo D'Ercole per conto di ATER saranno posti ortogonalmente rispetto alla direttrice di viatavo. Un intervento complessivo da 7,8 milioni di euro, così da dare un segno forte e tangibile di rinnovo architettonico e sociale di una parte di città che presenta molti aspetti problematici. Non ci saranno più case alveari, il commento dell'assessore con delega all'urbanistica Isabella del Trecco. Piuttosto, prosegue, avremo spazi pubblici come servizi per i cittadini e una piazza che verrà dedicata all'ex assessore Lucio Candeloro, il primo a credere nella possibilità di riqualificare l'aria. Da oggi comincia veramente una storia completamente nuova per il quartiere Rancitelli, Villa del Fuoco. Le parole del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, tra i primi promotori di quest'opera, che poi prosegue, ricostruiremo case belle, vivibili e abitabili che verranno assegnate solo agli aventi diritto. Parere negativo in Consiglio comunale da parte del blocco di opposizione con i no del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Proprio pentastellati hanno definito il progetto un nuovo ferro di cavallo poco più piccolo dell'attuale. Il progetto di ricostruzione voluto dall'ATER è un errore insostenibile, proseguono i consiglieri, e il Comune di Pescara dovrebbe essere compatto nel pretendere una nuova struttura urbana in grado di favorire la socialità, la connessione, l'apertura del nuovo edificio verso la città.